Il CAI, Club Alpino Italiano, è un'associazione che ha come scopo la valorizzazione dell'alpinismo e la scoperta delle montagne in ogni loro aspetto. Migliaia di soci sono accomunati dall'amore per la montagna e la natura. Il CAI di Como, fondato nel 1875, si impegna a diffondere la cultura del vivere la montagna. Uno di essi è sicuramente legato alle escursioni montane, delle quali un elemento fondamentale è la presenza di rifugi sul territorio. Il concetto di rifugio è quello di un edificio nato per dare protezione e riparo ai viandanti di passaggio attraverso gli archi alpini. Sono normalmente collocati in quota, lontano dai centri abitati. Con lo sviluppo del turismo di montagna, i rifugi, anche nelle forme di bivacco o capanna, sono diventati a volte dei piccoli alberghi che offrono servizi essenziali espartani, pasti caldi, servizi igienici e letti a chi è impegnato in escursioni a piedi o con gli sci.